buongiorno sempre più sconvolta si sempre sconvolta dovrebbero essere le sette e mezzo alle otto non lo so adesso ve lo dico e adesso vi racconto piace sono le otto ho dormito fino alle sette più o meno allora allora vi aggiorno perché siete davvero davvero molto carine molto carini che mi chiedete sempre come va aspettate che prendo quello che devo prendere e come va con il piede poi ieri abbiamo fatto l'interventino chiamiamolo così alla fine ne abbiamo sentite di ogni non sono verruche non sono occhi di pernice non sono di qua non sono di là alla fine è il virus della verruca ovvero sì praticamente sono verruche ma non è la verruca da contatto quella che si prende nelle piscine per intenderci e di conseguenza quella che attacca perché se no mi sarebbe già piena ma è il virus della verruca che mi spiegavano che praticamente un virus che tutti noi abbiamo soprattutto da da bambini e mi è praticamente uscito da solo dal fatto che evidentemente in quel periodo ero fortemente sotto stress ed avevo indubbiamente un fortissimo calo delle difese immunitarie questa è stata la spiegazione che mi è stata data ieri dal dermatologo il quale mi ha due me le ha incise e perché c'è il fiatone perché quando parlo non respiro allora due le abbiamo incise e le altre me ce le ha bruciate con non a caldo ma a freddo quindi le ha un attimino bucate incise e poi è andato con questo spruzzino che spruzzava azoto non lo so comunque sia a ghiaccio che non è stato dolorosissimo sinceramente non è che solo in alcuni punti quelle più profonde diciamo che vabbò e niente quindi adesso cosa si fa adesso per dieci giorni devo fare le medicazioni devo disinfettarle finiti dieci giorni laddove io vedo che rimane pulito inizio poi con una crema vado avanti per altri 20 giorni insomma per farla breve devo ritornare tra un mese per il controllo e lì si vedrà se se sono andate via oppure se il caso di ripetere questa bruciatura a freddo oppure se invece è proprio il caso di inciderle proprio tutte e mi auguro mi auguro davvero di no sinceramente e niente volevo appunto aggiornarvi vi ho dato il buongiorno così in a cappettoio abbiamo parlato di verruche di prima mattina vabbè poi come state spero voi stiate tutti bene adesso sicuramente sono già iniziati le scuole non ero più palide adesso sì gli esami di recupero insomma sarete tutti a pieno ritmo no immagino suppongo e io invece aspetto ancora le vacanze non vedo l'ora non vedo l'ora che non vedo davvero l'ora che arrivino insomma noi partiremo il 21 di settembre abbiamo la nave il 21 di settembre e infatti ecco se riesco mi porto un attimino avanti perché non mi va di saltare i video poi per quelle due settimane lì e facciamo anche adesso mi medico poi mi faccio un altro caffè che magari non ha bisogno perché stanotte non ho dormito tanto appunto quando ho andato via l'effetto dell'anestesia e poi cosa mai facciamo una mini routine insieme giusto il minimo indispensabile qualcosa da un quarto d'ora non di più giusto per rendere la casa in ordine se avete piacere ciao ciao Nel frattempo è l'una meno 10, l'una meno un quarto, meno un quarto, meno un quarto, meno 10 e tra un po' arriva mille, io oggi mi sono letteralmente riposata da questa mattina, ho fatto proprio lo stretto necessario, un po' perché mi fa male un attimino il piede, ad appoggiarlo e diciamo che l'ho utilizzato come scusante per stare, per stare qui ce la faccio, sì sono rimbambita, oggi pappa, pappa il pomodoro, io non vedo davvero l'ora, potendone mangiare pochissimo quando riesco a fare la pasta al pomodoro per me è giorno di festa, quindi oggi faremo pasta fresca con il sugo al pomodoro e nel frattempo ho passato tutta la mattinata, mi sono infognata a guardare questo qua si vede il titolo, sono al quarto episodio, l'avevano consigliato su Netflix appunto, mi era stato consigliato, io come ho iniziato a vederlo ho iniziato a guardare i primi due minuti ho detto no ma questo è un film di paura, quindi anche no, effettivamente insomma diciamo che ci sono queste scene dove si vedono questi mostri, insomma queste persone che inizia proprio con queste persone che si trasformano in pseudo mostriciattoli, però poi andando avanti lo sai che insomma il massimo della loro trasformazione è quella, quindi non fa poi più paura, però all'inizio come l'ho visto ho detto no è film di paura, no perché non ne ho proprio voglia, invece no, devo dire che adesso sono alla quarta puntata appunto, guardate tutte queste puntine e devo dire che invece mi sta prendendo, mi sta prendendo, va bene mettiamo su, mettiamo su l'acqua per la pasta magari, cosa ne dite? e poi oggi in teoria se ne ho voglia dovrei andare, vorrei dovrei andare da là a farmi, a farmi pettinare o meglio comunque sia a farmi fare la piega perché io con questo caldo di farmela da sola non ne ho davvero davvero voglia, però sono talmente, è così, insomma in questo periodo è così che non so neanche se ho la voglia di prendere e uscire per andare fin dall'ora a farmi fare la piega e oggi ci beviamo anche una bella birra scarlata, siamo invece scarlata, bionda questa cosa è rossa, dove sto inquadrando? Adesso ve la faccio vedere assaggiamo, assaggiamo questa qua oggi apriamo queste, queste sono le birre che ci hanno portato appunto i nostri amici di youtube sapete che sono venuti qua a trovarci, quindi ci hanno appunto portato queste birre artigianali una l'abbiamo già assaggiata, adesso oggi mi è venuta voglia di assaggiare questa, mi è proprio venuta voglia di birra e vabbè mangeremo la pasta insieme alle, così se mi interessa, melanzane che sono già state grigliate e poi per merenda abbiamo l'anguria che è già stata tagliata la mangiamo finché ce n'è e se magari butto il pomodoro dentro la cipolla evito di farla amerire faccio il loco faccio la stampa allora andiamo a fare i capelli, poi le tasso prendiamo e andiamo a vedere mangiamo per otto e mezza perché mi chiesi via alla fine non siamo neanche riuscito a finire la pasta perché devo andare avanti ci passi non rimango ferma non abbiamo neanche finito la pasta perché abbiamo esagerato con il piccante entrambe allora poi io la mia appunto la sentivo tanto piccante che ho detto ci aggiungo il formaggio peggio che peggio nel senso che noi io mi è difficile che mettiamo formaggio sulla pasta ci piace mangiarlo a parte di solito a fine pasto e purtroppo per me non per mille noi qualsiasi cosa mangiamo indipendentemente dal pranzo dalla cena a fine pasto c'è o il pezzo di formaggio il pezzo di salame sempre 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 vabbè però in compenso siamo quasi riuscita a finire questa bottiglia di birra ma quanto sarà questa 33 per il frattempo mi resta fatta venire voglia di sapere che non mi fa più niente adesso mi devo preparare tutti i dolci di mele perché io aspetto l'autunno all'autunno con l'arrivo dell'autunno riprenderò ormai lo sapete proprio e quindi si è presa queste cose sono sfogliatelle di mele prodotte qua infatti hanno una scadenza breve perché durano una settimana sono tutto fresco e quindi quindi mi sa che ci mangeremo il dolce e l'anguria perché quella pasta è finita male poi sinceramente non mi ha fatto impazzire no ma abbiamo preso quella pasta lì è nuova erano degli agnolotti ti di camut con ripieno di di verdura ma personalmente non sono piaciuti qua si stanno volando fortunatamente fa niente va benissimo così io e mi le siamo proprio il giorno alla notte è così poi mille più tardi andrà a farsi i capelli anch'io devo andare a farmi i capelli ma sinceramente non ne ho proprio voglia tra il piede che mi sta iniziando di nuovo a pulsare e poi non ho proprio voglia di uscire nel senso che già dobbiamo uscire più tardi perché siamo fuori a cena siamo con micchi e silvia e i genitori di micchi quindi non so se avrò voglia se poi mi viene la voglia di uscire ovviamente vi porterò con me mai mettersi sul divano dopo mangiato o se ci si mette sul divano dopo mangiato mettere una sveglietta tipo un quarto d'ora 10 minuti alla fine non so dirvi se ho proprio dormito si forse è stato un attimo che mi stavo davvero addormentando nel senso avete presente quel dormire cioè che dormite però sentite anche perché c'era il televisore tutto il volume poi sentito mira che ha chiuso il balcone ha fatto corrente quindi ha sbattuto e poi mira adesso mi ha salutato mi stava dicendo che andava appunto a farsi i capelli e ne approfitto mi faccio passare questa poltronite e mi sforzo ad uscire anche perché sennò poi so già che se non vado a farmi aiutare da laura a dare a meno il primo stiraggio poi non me li stiro e li vorrei stirare perché devo finire di registrare un'altra puntata è un'altra sì un'altra puntata diciamo per le dritte a questo punto io opterei per un caffè anche se questa mattina ho già presi due questo sarebbe il terzo però c'è da dire che i miei caffè sono molto molto leggeri facciamo che mi alzo anche perché vedere me così non penso sia di nessuna motivazione non che questo video abbia motivazione o sia nato con l'intento di dare motivazione anche perché pulizie non ne abbiamo fatte però facciamo come quelle che si alza il mio caffè dell'estate non mi ricordo se ve l'ho già fatto vedere oppure no consiste in 2-3 cubetti di ghiaccio poi come aroma utilizzo questa qua il delizioso anche se c'è anche il suave che non è che mi dispiace e poi ho l'altra quello lì un po' più strong che non utilizzo tantissimo sinceramente adesso li utilizzo più questi un po' di latte a freddo però a Erika dov'è stai ancora grande e voilà un pseudo cappuccino se vogliamo così considerarlo ho un caffè macchiato però è freddo nel senso che anche il latte è montato a freddo non è montato a freddo vediamo se questo ci sveglia mamma mia che buio mi ha chiuso anche la tenda giustamente per per farmi riposare però no perché se no non esco più invece voglio uscire voglio davvero approfittarne per andare a farmi i capelli e per salutare la piccola Daphne che voi non avete ancora visto perché a casa di Laura c'è la new entry c'è la Daphne forse magari se qualcuna di voi segue Isa su Instagram l'avrà sicuramente vista quindi passiamo a fare passiamo a fare un saluto beccata ecco questa è la sorpresa che è arrivata con Isa ma ciao fatti vedere dai ragazzi ciao io sono Daphne tutta sbrodolosa come mai bagà avete visto e tu come stai è un po' che non la vediamo sgridate la ragazza stavo facendo da guardia aspettavo facessi bisognini aspetta aspetta che entriamo dentro vado anche io salutare Isa ragazzi che come non l'avete vista voi non lo visteremo sempre impegnata questa donna sempre sì riesce a mi stare il piede aspettate che stacchiamo ciao Daphne vuoi fare la nanna? ciao ciao noi andiamo a fare la nanna va bene io inizio a stirarmi i capelli ciao sì infatti io devo incominciare a stirarmi ti aspetto eh devo incominciare a stirarmi i capelli se no rimango così ho dormito con il ventilatore tutta la notte e come è la situation dalle vostre parti fa molto caldo sì quindi di notte si sta col ventilatore e il risultato del mattino dopo è questo si taglia la testa sì se è troppo alta mi devo tagliare un pezzo di gamba no e quindi così no c'è un'acqua allucinante ah ancora qua io il video spiego di andare ma sai che andare al mare non mi manca è il mare vabbè voi siete andate al mare sì beh tre giorni a maggio vabbè chi si accontenta tre giorni a maggio mamma mia preferirei più un'isola deserta in questo momento sì anch'io un'isola deserta abbiamo anche due nuove clienti il nostro amico ah io Giuseppa toto sembra più Orietta Berti lei è Orietta Berti l'acconciatura più o meno è quella il colore dell'azzeccato e poi un momento questo è un lebriero afgano come vedete non si vede le nostre due nuove amiche dai fate un balletto mille vai vai amo parti col pezzaccio dov'è non si vede mille io l'ho data a parte io l'ho data a parte io l'ho data ma che gli ha cavuto i capelli su lo tagliate un po' caldo ma che gli ha anche tu lo tagliate un po' ancora di più dopo le tagliate passati l'avanti nel calzello libera per evitare dentro direi quella di così corpi di la calzella ma no non so tagliare un po' ma che c'è piccola che male ma che c'è ma che c'è A presto, a presto, a presto, a presto. Perché vuole la piega? Ah, perché poi si sconfia. E non vuole più sconfio. Devi farti bella. Lei piace giocarci con quella. Per quello che la piatta perché gli pennavo lo scopo da Laura. Non è vero. Dove è? Dove è stata la capapita doccia? No, non è vero. Aspetta, salutalo. Aspetta, che sono... Beh, tanto era buio, non si vedeva. Era buio. E ora facciamo che per oggi è tutto. Io vi saluto. Con col piede. Saluta, muovi anche il piede. Ciao anche dal piede. Ma cosa fai? E noi ci vediamo presto. Ciao. 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 Grazie a tutti.